Dopo diverso tempo Mahanicio torna a parlare di sé perché una nuova minaccia mette in pericolo tutte le costruzioni presenti in questa zona. Scopriamolo assieme in questo nuovo video. Scopriamolo assieme in questa zona. Scopriamolo assieme in questa zona. Richiesta di servizio qualità a Fuerteventura. Siamo in un piccolo paese di pescatori con delle case che spesso non hanno né corrente né acqua. Devono un pochino arrangiarsi da sé. Ti ho parlato di questo villaggio meraviglioso nel video che ti lascio qua sopra. Ma oggi non parliamo solo di un villaggio di pescatori ma torniamo a parlarvi di Origo Mare. Altro video di cui ti ho parlato ormai due anni fa. Se ti sei perso questo video devi assolutamente alla fine di questo andartelo a vedere. Perché ti spiego con distanza di due anni la situazione circa questa zona. Oggi è cambiato, è migliorato, si sono vendute tantissime case. Ne rimangono ancora tante invendute, lo vedremo fra un attimo. Ma neanche questo è il video di oggi. Oggi parliamo realmente di una minaccia perché è una vera e propria minaccia a milioni di metri quadri di questa zona che potrebbero anche ledere eventuali proprietari attuali ma anche futuri. Alissè dal fondo di investimento è riuscito a fare un miracolo per questo posto. Parliamo di centinaia di case vendute inizialmente a prezzi davvero bassissimi. E tra l'altro l'agenzia immobiliare per riuscire a vendere in massa questi appartamenti, queste casettine hanno davvero fatto una fatica tremenda al punto tale che Aliseda ha pagato anche il doppio di una commissione normale alle agenzie immobiliari per ogni casa venduta. Questo al fine chiaramente di riuscire a ripopolare questo pueblo. Qui siamo nel punto peggiore che rimane oggi e nonostante questo possiamo vedere la piscina che è piena, è tutto super ordinato. Rimangono appunto questi ultimi lotti, c'è neanche alcun interesse nel vendervi il prodotto ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Hanno fatto davvero un miracolo e la possibilità che succedesse tutto questo era davvero piccola. Per questo che vi esorto una volta in più, rivedete il video fatto due anni fa così da capire un pochino la differenza. Questo complesso è stato costruito su un terreno che più volte è stato ribadito un terreno non essere adatto alla costruzione. Questo che significa patrimonio protetto. Per un miliardo di motivi, adesso ne andiamo a vedere qualcuno nuovo tra l'altro se non dovessero bastare i vecchi, rischia di tornare quello che era, ossia una zona abbandonata. Non voglio entrare nella diatriba ma no, adesso ci sono centinaia di famiglie proprietarie e quindi nessuno sbatte fuori nulla. Però sapete bene anche voi come funziona quando ci sono delle leggi che vanno in conflitto con gli usi e i costumi di una zona della serie che ha le isole Canarie. È un po' tutto ammesso, non si capisce mai se c'è un abuso di lize, una cosa in più, una cosa in meno, ma sì c'è la denuncia, passano anni. Ma che cosa sta succedendo oggi? La colpa la dobbiamo dare a un essere umano? No, oggi non bisogna darla a un essere umano. Per una casualità dobbiamo darla a un ragnetto. C'è un piccolo ragno che esiste da 800.000 anni proprio in questa colata lavica che arriva fino a Vigliaverde che fa di questa zona la casetta di questo ragnetto. La Commissione Europea ha aperto un dossier per il progetto origomare, ma già questo nel 2017 di cui già vi avevo parlato. Perché abbiamo una materia urbanistica e ambientale che sono un po' un punto di domanda rispetto a quello che in realtà oggi viene, diciamo, proposto, venduto, propinato al popolo. Sviluppo su spazio protetto. L'arachnide che vive in questo tubo vulcanico hanno deciso di renderlo protetto. Perché? Perché questo ragnetto si riproduce ed esiste in tutto l'arcipelago solo qui. Quindi noi abbiamo un Ministero della Transizione Ecologica che lotta costantemente contro il cambiamento climatico e chiaramente con i cambi totali di pianificazioni territoriali che vengono eseguite in queste zone. Ci sarà una commissione che in questo caso è la Commissione Autonoma della Valutazione Ambientale e sembra che pochi giorni fa abbia approvato una dichiarazione di impatto ambientale condizionato al progetto sull'urbanizzazione delle case di Machaniccio. Quindi adesso si sta proponendo vidimare una legge in cui Rete Natura 2000 diventa di importanza a livello comunitario. Quindi l'ICC. D'altronde la casetta di questo ragnetto, chiamiamolo per nome Majorerus Randoi, è questa qui e lui, poverino, che già nasce cieco, vive a origomare da 800.000 anni. Si sta denunciando che i lavori che sono stati eseguiti qui sono stati fatti senza un'accurata valutazione ambientale e se del ragnetto dovesse interessarvi poco, pare ci siano state diverse violazioni per quanto riguarda la cura dell'habitat e degli uccelli. Sì, perché nonostante questo terreno incolto, tantissimi uccelli, rarissimi tra l'altro, venivano proprio qui a depositare le uova. Uova che oggi non depositano più. Questa direttiva includerebbe anche quindi un sacco di nuove misure, di cui ancora non conosciamo le entità, che saranno correttive e compensative. Bisognerà restaurare queste aree a livello ambientale degradate. E questo come? Si parla di eliminare diverse strutture, i lampioni. Ma come fa un paese con millemila abitanti non avere una luce in mezzo al deserto? Pulizia e raccolta di detriti. Piante non autoctone, come quelle che abbiamo in tutto questo parco meravigliosamente piantumato, ma che non centrano nulla con l'habitat di questi animali. Se questo non dovesse bastare, il governo delle isole canarie ha anche ampliato di quasi 2500 ettari le zone rustiche non edificabili che devono essere declassate per diventare protette. Ma in tutto l'arcipelago, Nico, 2500 ettari non sono così tanti. No, nel centro nord di Fuerteventura, Betancuria, Esquinso, Vallebron e Lajares. Sembra proprio che verrà creata una commissione di monitoraggio per gestire tutte le nuove misure citate poco fa. Il governo delle canarie, il cabildo di Fuerteventura, ma anche il nostro piccolo municipio della Oliva dovranno collaborare assieme. Una cosa è certa ragazzi, non andranno più a costruire niente in questo territorio. Questo rende queste case una volta in più una piccola prelibatezza, perché abbiamo davvero una struttura recente, bella, che se non fosse stata in mano a un fondo di investimento, tra l'altro parte di Blackstone, quindi vi ho già detto tanto, non sarebbe finita assolutamente bene. Piccoli, grandi miracoli esistono. In Origo Mare vediamo una realtà praticamente equiparabile a quella di Mirador della Sdunas, un complesso in cui non ti ho ancora portato a livello video, ma abbiamo fatto tante belle operazioni in quella zona. Non credo che potranno togliere l'abitabilità a queste case, a queste persone, a queste famiglie, perché tante persone hanno sacrificato i risparmi di una vita e hanno magari aperto 20-30 anni di mutui per potersi permettere di vivere in questo paradiso, perché di paradiso stiamo parlando, siamo a meno di 10 minuti di auto dalla Hares, siamo a 15 minuti di auto passando dal deserto sulla costa, dalle coste del Cotiglio, a meno di 20 chilometri da Corralejo, in una realtà paesaggistica davvero bellissima, ma se devo trovare un difetto, io rimango sempre con i piedi ben per terra e non cambio di opinione, è un ottimo investimento, ma se ci devo andare a vivere, devo sempre essere cosciente che mentre qualcuno lotta per legalizzarmi o mantenermi legale, tutto questo che oggi abbiamo visto, c'è qualcuno, anche di molto forte, molto grosso, che sta lottando per rendere protetta questa zona e l'idea, sinceramente, personalmente, di vivere in un parco protetto, mi mette un pochino di paura, perché quando cambiano le leggi, i primi a prenderle in quel posto, poi siamo noi. Odigo Mare ha sempre creato molte diatribe, mi raccomando, super corretti nei commenti, ma fate il vostro commento, lasciate il vostro punto di vista, che con educazione è sempre e comunque gradito. Io vi lascio da una bella, calda, primaverile giornata di Fuerteventura, da un posto meraviglioso, che merita una sentenza definitiva e chiudere finalmente questo capitolo e capire queste persone, questi abitanti, questi investitori, questi uccelli e questi ragni che fine faranno. Nel rispetto di tutti, nel rispetto dell'isola, nel rispetto anche di chi comunque ha messo i soldi e si è fidato, affidato a un professionista quando ha comprato questi prodotti. Siamo davvero tra le incudine e il martello e non voglio permettermi di scegliere una fazione piuttosto che l'altra. E anzi, vi dirò di più, riguardatevi il video di Odigo Mare fatto due anni fa e rimango della stessa idea. E Ica rimane della stessa idea. Anche oggi il nostro video finisce qui, io vi aspetto come sempre sul posto Fuerteventura. Ciao!